ciao a tutti benvenuti sono valentina e oggi vi mostro il mio lavoro è una cintura con pendenti ricamati da annodare formando un bel fiocco è un bel accessorio direi molto raffinato e rispecchia eleganza e classicità i pendenti sono ricamati completamente a mano per creare questo lavoro uno deve avere una buona esperienza ad usare bene l'uncinetto le uneville e anche un semplice uncinetto questo è il mio procedimento del lavoro come vedete io ricamo sul telaio ricamo prima tutti elementi e poi riunisco insieme qui ho usato la colla per non far sciogliere tutti i fili così si mantengono bene le mie perline e non si sfila il lavoro vi lascio in silenzio a vedere tutto il mio procedimento del lavoro come vedete veramente ricamo richiede tanto tanto tempo e tanta pazienza penso che a ricamare possono ricamare solo le persone che hanno la pazienza e amano ricamo perché realmente ci vuole proprio ore 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 di lavoro ci vediamo presto nel frattempo io sto facendo gli altri lavori che presto vi vi mostro arrivederci alla prossima grazie a tutti